Cosa porti a Chiavari e con che motivazioni arrivi? Sicuramente sono venuto qua in una squadra, credo, ambiziosa, quindi cercherò di rispettare le aspettative quanto la società ha puntato su di me. Cercherò di portare sicuramente la mia esperienza a Verona e di dare qualcosa anche in più a livello di mentalità. L'impatto com'è stato con la città di Chiavari e poi con la Virtus Entrala, visto che hai già fatto un allenamento? L'impatto è stato molto positivo, una città dove si può lavorare bene, un ambiente sereno e ritrovo vecchi compagni di squadra, quindi sono molto contento, soprattutto per il valore umano di questa squadra. Tanti attaccanti e uno stimolo in più a far bene? Sì, sicuramente la competizione fa sempre bene, è meglio che ce ne siano giocatori più forti che no, quindi dobbiamo cercare di lavorare bene tutti quanti per conquistarci qualcosa di importante. Entrala solitamente gioca due punte, ma con te si può provare il tridente? È una cosa che avete già magari studiato col mister? Ma credo che insomma il modulo sia giusto, visto che comunque vengo per giocare davanti e ho sposato il progetto Entella proprio per questo motivo qua anche, quindi va bene così. Poi se in futuro dovesse cambiare qualcosa posso fare anche l'esterno, quindi non c'è nessun problema. Una stagione che si appena annuncia molto difficoltosa, tante insidie, tante squadre buone. L'Entella dove può arrivare secondo te? L'Entella secondo me deve pensare prima di tutto a lavorare giorno dopo giorno, quindi costruire il suo campionato sabato dopo sabato. Deve essere una società ambiziosa, una squadra che crede di poter arrivare in alto.